ok ragazzi eccoci con un nuovo video era un po' che non si faceva un nuovo video unboxing ma finalmente tutti i vari pacchi e pacchettini ordinati dalla cina stanno arrivando e dovrebbero arrivare quindi procediamo subito con un rapidissimo unboxing per farvi vedere il contenuto e quindi l'imballo di una scheda che dovrebbe essere un Arduino 2650R3 allora andiamo ad aprire realmente il pacchettino insieme vediamo che cosa c'è questo è un pacco acquistato su Aliexpress eccolo qua la bustina è la solita classica bustina con il classico pluriball con le bollicine e qui troviamo la scheda imballata con la bustina per evitare gli shock elettrostatici ecco alla scheda e il suo cavetto di alimentazione nel prossimo video andremo a vedere il funzionamento reale della scheda quindi scopriremo se questa scheda ha pagata davvero pochissimo funzionerà davvero pure no ma per come è imballata e per la qualità della scheda direi che comunque tutto dovrebbe funzionare vediamo se riesco a tirarla fuori ecco questa purtroppo è la pecca dell'imballo fatto con le buste ok direi che la scheda è perfetta non ci sono pin piegati o altro e così non mi pare di vedere saldature strane ok se il video ti è piaciuto lascia un like e iscriviti al canale per rimanere aggiornato e scoprire come andremo ad utilizzare questa scheda ciao alla prossima ciao